Bentornati! In questo video daremo un'occhiata al sintetizzatore 3X Oscillator. Vi ricordo che in FL Studio un synth è qualunque plug-in in grado di generare suoni. Il 3X Oscillator è il synth più semplice che troverete in FL Studio, anzi forse il synth più semplice in assoluto che troverete in una DAW o in qualunque altro software di produzione musicale. Come si deduce dal suo nome è composto da tre oscillatori. Un oscillatore è l'elemento di un synth che produce onde sonore, ma adesso andiamo a vederne nel dettaglio. Iniziamo! Apriamo il channel rack, clicchiamo sul più, apriamo il 3X Oscillator, lo troviamo sotto i synth classici, vedete che si apre questa interfaccia, apriamo al volo anche il piano roll. E ce lo teniamo se vogliamo fare qualche esempio. Andiamo a zoomare su questa finestra. Le altre modalità che abbiamo per aprire il 3X Oscillator sono da ADD, dove troviamo il 3X Oscillator, e ancora con F8 possiamo proprio fisicamente prenderlo e trascinarlo qui. Andiamo a vedere l'interfaccia di questo synth. Qui sulla sinistra abbiamo i numeri 1, 2 e 3 che rappresentano l'oscillatore numero 1, oscillatore 2 e oscillatore 3. Le icone accanto ad ogni oscillatore rappresentano la forma d'onda attualmente selezionata. Vedete che quella che si chiama onda sinusoidale in questo momento è selezionata per tutti gli oscillatori. Possiamo cambiarla con un'onda quadra, con un'onda tente di sega o quello che vogliamo. A destra di questo troviamo due slider, il Fuzz Offset e il Detune. Il Fuzz Offset semplicemente determina il punto da cui l'onda ha inizio rispetto alla sua forma. Quindi solitamente il suono ha inizio da qui, ma se muovo questo slider, questo determinerà il punto da cui l'onda sonora avrà inizio, quindi sostanzialmente muoverà l'onda. Il Detune, Tune è tono in inglese, modifica il tono dal suo pitch originale. Quindi se sto suonando un Do, spostare il cursore lo detunerà rispetto al Do originale. Ve lo faccio vedere perché è più semplice che spiegarlo. Questo è il Do. Se io mi sposto e muovo a caso questi tre slider, sentite il disastro che causo. Sentite che adesso i tre oscillatori non sono più in tono tra di sé. Se muovo lo slider verso l'alto, mi sposto verso l'alto della scala, quindi verso le note più acute. Se lo muovo verso il basso, verso il basso della scala. Spostandoci ancora a destra, possiamo vedere questi controller chiamati cores. Questi determinano il pitch, la tonalità in cui la nostra onda sonora sarà riprodotta, misurata in semitoni. Quindi potete vedere che attualmente abbiamo il primo oscillatore impostato a 24, il secondo a 12, o quindi 12 semitoni rispetto al primo, e quindi un'ottava sotto, e il terzo è a zero, quindi è 24 semitoni rispetto al primo, e quindi è due ottave sotto. Andando a fare di nuovo una dimostrazione pratica. Se adesso io suono una nota, ottengo questo. Se adesso aggiungo 5 semitoni a ciascun oscillatore, vediamo cosa accade. 29, 17, 5. Sentite che sto suonando una nota completamente diversa. Sto suonando un Fa, perché Do più 5 semitoni è un Fa. Possiamo vederlo qui. Do, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa. Quindi se daremo dei valori differenti a questi tre controller, otterremo note diverse, mentre in questo caso tutti e tre stavano suonando un Fa, e quindi otterremo risultati diversi. Guardiamo questi ulteriori controller. Qui a destra troviamo per ogni oscillatore un controller per il pitch fine. Cioè in pratica essenzialmente vi permette di controllare ad un livello ancora più raffinato il pitch. Quindi che cosa fa? Aumenta ancora o diminuisce ancora la tonalità in centesimi, fino ad arrivare a guadagnare un intero semitono. Bene, quindi sono centesimi di semitono. Posso dare un semitono in più o un semitono in meno. Mentre questi sono direttamente semitoni. 24 sono 24 semitoni. Quindi anche in questo caso posso creare una piccola differenza di intonazione tra i tre oscillatori. Ancora a destra abbiamo il controller del panning. Questo ci permette di far sì che il suono di un oscillatore esca più a destra o a sinistra dei nostri speaker, oppure addirittura solo a destra o a sinistra. Quindi se esposto tutti e tre questi controller a destra, il suono uscirà solo da destra e viceversa solo da sinistra. Questo è un effetto che noi possiamo creare anche dal channel rack o dal mixer, ma spostando tutto il suono a destra o a sinistra. Mentre in questo caso noi possiamo spostare un oscillatore più verso destra e altri verso sinistra, ad esempio. Infine, sull'oscillatore 2 e sull'oscillatore 3 abbiamo un mixer level. Questo determina il volume dei due oscillatori. Perché non abbiamo questa forma di controllo sul primo oscillatore? Perché dobbiamo avere sempre almeno un oscillatore che produca rumore perché il sintetizzatore funzioni. Quindi questo è l'oscillatore che sta al 100%, mentre questo di default è selezionato sul 50 per te, 100, e questo di default sul 25%. Ovviamente noi possiamo cambiare a nostro piacimento. Se ad esempio portiamo questo al 100%, quindi a questo punto allo stesso volume del primo oscillatore. Sentite come il suono è diventato più basso, perché questo oscillatore si trova due ottave sotto, sta riproducendo lo stesso suono, ma due ottave sotto rispetto al primo oscillatore. Qui abbiamo anche un controllo per la modulazione di ampiezza, amplitude modulation in inglese, del terzo oscillatore. Se selezioniamo la modulazione di ampiezza, possiamo poi intervenire sull'oscillazione della sinusoide tramite questo knob. È un'opzione con risultati simili a quelli che potreste ottenere con questo cursore, ad ogni modo non è un'opzione che vi troverete ad utilizzare spesso. Bene, abbiamo sviscerato il nostro 3x oscillator. Vi consiglio di provare ad utilizzarlo, create una semplice melodia nel piano roll e intervenite sui vari parametri del synth per sentire come cambia il suono. Cambiate le forme d'onda degli oscillatori, il pitch, il pan, il volume e ascoltate quello che viene fuori. Si tratta di un synth con grandi potenzialità didattiche. Prima di passare a plug-in molto più complessi, vi consiglio caldamente di sviscerare 3x oscillator. Noi ci vediamo al prossimo tutorial dove andremo a vedere un plug-in che per certi versi è esattamente l'opposto del 3x oscillator, cioè il flex. A presto! A presto!